E' buono, no? Buono, buono. Prego avvocato. No, 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 io a pranzo non bevo mai. Avvocato? Beh. No, 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 io non bevo mai. Bevo me. Grazie. Buono. Bene, adesso se ne deve più andare. Sì, buono, avvocato. Io vi volevo conoscere perché mi sono fatto un ragionamento. Vengo a stare in cooperativa con voi. Eh? Siete contento? No, 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 non può. Non può. Lei era il fattore del boss. Lei ti dice che io sono mafioso? No, 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 non ho detto questo. Volevo dire che c'è una legge. C'è proprio la legge della 109. Dite, a me mi dai resto la legge. La 109 dice che le cooperative che nascono su terre confiscate si formano con un bando, ecco, e che per essere soci si deve fare domanda. Poi... Poi... Grazie. Poi il prefetto... Angelo, angelo. Il prefetto fa una commissione che sceglie i soci per evitare infiltrazioni di... di mafia. Signor Cosino. Perché non parla più? Mi avete fatto scena la malingonia, avvocato. a me. Questa è la terra a me. Se mi mandate via di qua... mi strazzate un cuore. Cazzo però quando sudate voi del governo. Esce. Gli alzivrati, scusa. Fai vedere. Gli alzivrati. Ma esce la doccia. Fa caldo qua al sud. Bevete. E dalla. Salute.